Una grande squadra composta da tutto il personale del 118, dei pronto soccorsi, dei punti di primo intervento aziendale assieme al 118 di Mestre, assieme al 118 di Treviso che mette a disposizione l'elicottero. Noi garantiamo la sicurezza per tutti coloro che vogliono venire a passare una vacanza qui a Carlo in questa bellissima spiaggia, così come in tutte le spiagge della costa della nostra regione Veneto. Abbiamo voluto fare questa dimostrazione come la stiamo facendo in tutte le altre spiagge perché è molto gradita ai turisti vedere come è veramente una macchina efficiente che dal mare può salvare benissimo una vita e in difficoltà la può portare in un ospedale per fargli riprendere al più presto la vacanza. Nei 57 km di costa che vanno da Bibione, quindi dalla foce del Tagliamento a Punta Sabbioni abbiamo quasi 24 milioni di presenze turistiche oltre ai residenti ai quali dobbiamo anche in estate come tutto l'anno dare assistenza. Poi ci sono tutti coloro che hanno la seconda casa e tutti coloro che vengono in giornata. Milioni e milioni di persone a cui dobbiamo dare assistenza e sicurezza. Lo facciamo attraverso i nostri punti di primo intervento, ogni 15 km in questa costa abbiamo pronto soccorso, attraverso i nostri ospedali San Donato e Portogluaro, attraverso la nostra rete ospedaliera regionale e attraverso la regione Veneto che ogni anno mette a disposizione della nostra azienda milioni di euro proprio per aumentare il personale, acquisire nuovi medici, infermieri, nuove ambulanze per tutto il periodo estivo. Proprio perché queste sono le vacanze più sicure che possono essere garantite a tutti i cittadini europei che vogliono venire al mare, nelle nostre spiagge.